riqualificazione di viale malta rivoluzione del corso nuova autostazione dei pullman c'è un filo comune che lega queste tre importanti opere cittadine la complessità degli interventi e il loro inevitabile impatto sulle abitudini dei piacentini ma c'è un altro elemento che li accomuna ed è il ritardo sul termine dei lavori modesto nel caso dell'autostazione spostata all'ex piano caricatore inizialmente prevista la consegna subito dopo la pasqua e poi posticipata al 18 aprile più consistenti invece per viale malta dove i lavori per la creazione della pista ciclabile sul lato dell'arsenale e il conseguente restringimento della carreggiata stradale dovevano terminare a fine febbraio e probabilmente slitteranno a fine aprile a causa di una variante relativa a un tratto di fognatura ha spiegato al telefono l'assessore ai lavori pubblici giorgio cisini nonostante l'inverno sia stato piuttosto mite e senza quindi causare ulteriori rallentamenti entro fine mese ha proseguito cisini completeremo con la posa della segnaletica senza causare limitazioni al traffico ritardi sull'avvio dei lavori decisamente più lunghi per la riqualificazione del tratto di corso tra il dolmen e la statua di sant'antonino che nelle intenzioni dell'amministrazione comunale dovevano iniziare con una sperimentazione nei giorni successivi al natale e ad oggi sono subordinati al termine di quelli di viale malta la rivoluzione del corso ha concluso cisini sarà imminente compatibilmente con altre opere in fase di avvio come la nuova autostazione delle corriere se ne vede remonti resforzando anche a clima di rosso la rivoluzione del corso probabilmente la rivoluzione del corso